ciao fregoline allora questo è un nuovo video un po diverso dal solito e dagli altri video volevo farvi vedere se siete interessati ovviamente lo shopping arcaplanet sugli animali praticamente io ho acquistato per i miei conigli e per chi interessa e gli piace vedere queste cose io vabbè per chi lo sa ho 4 conigli per cui vi faccio vedere cosa io ho preso fatemi sapere se siete interessati di questi video qua sulla spesa dei conigli del cane eccetera che ne farò altre che tutte le volte che andrò che ne so in un negozio di animali vi farò un video per cui fatemelo sapere se vi interessa io parlo ovviamente per chi ha gli animali ma anche per chi non ce l'ha però è uguale cioè almeno allora ho preso siccome sono quattro praticamente ho fatto la scorta scorta per modo di dire comunque i biscotti con spinaci per piccoli roditori questi qua che il prezzo non lo so adesso non lo dico perché sinceramente lo scontrino allora i biscotti 1 euro e 10 1 euro e 10 questi spero che si vedano ok non lo so li proviamo e vediamo cioè li provano e vediamo sono quattro no cinque vabbè ce n'è uno in più poi ho preso la confezione di pallet perché i miei conigli sono viziati e allora mangiano solo questo perché gli altri li mangiano ma certe cose le scartano e me li lasciano allora per non spendere i soldi inutilmente gli prendo questi qua che sono semplici praticamente è tipo fino questo qui 2 euro e 40 ne ho presi quattro questo che sono questi e sono 850 grammi ne ho presi 3 3 kg 2 per farvi capire un'altra confezione e un'altra confezione poi ho preso per finire questo che però lo volevo provare lo volevo provare mi vedete perché non so perché è buio sta comunque questo qua io lo volevo provare volevo vedere se gli piace è la marca pippo babbi però questi sono verdi e non lo so fibre grassino calcio proteico c'è qualcosa non lo so più o meno si vedono che sono verdi più o meno comunque questo qua questo 900 grammi e questo è costato 3 euro e 50 in in promozione in promozione questo qua questo qua però non lo so si vede nero vai a capire vabbè comunque questo qua io l'ho presi per provare vediamo se li mangiano vediamo se che vi piacciono non lo so comunque in totale quelli erano in promozione invece di 4 euro e qualcosa 3 euro e 50 per cui in totale 14 e 31 e forse perché non c'è il sole per quello che si vede buio probabile comunque niente erano solo 4 confezioni di palette biscotti e l'altro cibo verde che dovrebbero provare comunque fatemi sapere se vi interessa questo shopping sui conigli o anche sul cane io vabbè ho solo conigli 4 conigli e un cane se avevo altri animali vi faccio vedere cosa compravo ma siccome non ne ho e basta per cui questo è stato l'acquisto che in poche parole c'era queste confezioni c'era questa confezione qua che erano solo 4 confezioni le ho presi tutti io non c'era più di questo nel negozio non c'era più poi non lo so se c'era anche su credo di sì comunque spero di farmele abbassare devono abbassarmi per un mese spero e niente fatemi sapere se vi interessa questo genere di video se vi piace ovviamente che vi faccio vedere le cose di conigli non solo il mangiare ma anche tutto il resto fatemi sapere che vabbè questo video non so se lo vedete a novembre ma di sicuro sarà novembre va bene ci vediamo al prossimo video mi raccomando commentini qua sotto mi piace un bel mi piace e iscrivetevi al canale e leggo tutti i vostri commenti su questo al prossimo video grazie grazie grazie